C'è tensione adesso al passaggio di Obama tra pochi minuti, ci sarà anche qualche cecchino appostato dall'alto, sì ci sono, ecco nel lino c'è uno che controlla, non credo sia un cecchino probabilmente, sì ha un fucile credo, sì dietro ha un fucile, eccolo lì in basso si può vedere e ce ne sono altri sparsi anche probabilmente in alto, soprattutto sulla piazza del Quirinale quando passerà il Presidente degli Stati Uniti. Qui siamo all'angolo con via nazionale, regga appunto il cecchino che è appostato là in un giardino con gli aranci e le rose. C'è la copertura aerea dell'intera città di Roma, divieto di sorvolo totale e quando passa il corteo tutto intorno viene schermato, le comunicazioni, anche i telefonini non funzionano. Staremo a vedere, teniamo il cellulare acceso per controllare questa cosa di cui si è parlato sui giornali. Per il momento comunque il campo c'è.